famiglia. E questa è un po' la trama della famiglia Moskat di Isaac Bashevis Singer, lo scrittore polacco, americano, iddish e premio Nobel nel 1978. Il vecchio Meshlam è il patriarca della famiglia e sembra anche essere l'unico che tiene a conservarne la prosperità, mentre i figli sembrano più portati a dilapidarlo il patrimonio familiare piuttosto che conservarlo. Queste sono le vicende della famiglia che dà origine al titolo che si innestano però in quello che probabilmente è il vero protagonista del romanzo, vale a dire la società ebraica dell'Europa orientale degli anni immediatamente precedenti alla persecuzione nazista. Una vicenda complessa ritratta in maniera intensa dal grande autore che scrisse altri capolavori come Il mago di Lublino e soprattutto tante raccolte di racconti. Singer era nato in una cittadina vicino Varsavia di origine ebraica e rimase lì finché riuscì fortunosamente a fuggire negli Stati Uniti poco prima della seconda guerra mondiale dell'invasione nazista, raggiungendo un fratello che era già negli Stati Uniti e in questo separandosi dalla moglie che invece è diventata nel frattempo comunista, preferì raggiungere l'Unione Sovietica insieme al figlio, salvo pochi anni dopo venirne espulsa per attività sionista e raggiungere Tel Aviv. Queste le vicende personali di Singer, vicende complesse, come complesse come complessa la trama del suo romanzo, un vero e proprio capolavoro che ne ha segnato per sempre la meritata fama. Buonasera, buonasera e benvenuti alla appuntamento consueto del giovedì sera, rigorosamente in diretta. Stasera particolarmente importante, vi dico la verità, anche io lo sento molto perché è da tantissimi anni, non dico quanti, ma forse qualche decennio diciamo, che io sto dicendo e urlando a chi dice e a chi pensa che la nostra sia una terra senza cultura che forse sbaglia, ma sbaglia di grosso come si dice da noi, perché la nostra è una terra di grande cultura, di grande cultura magari in senso anche più moderno, no? Perché non è soltanto la cultura delle opere d'arte in qualsiasi campo, ma è una cultura radicata tra la gente dovuta alla socializzazione, dovuta alla storia che questa terra ha vissuto e i suoi abitanti hanno portato avanti in maniera forse diversa da quello che è successo in altre realtà del nostro paese. Grosseto, che è la capitale della Maremma, oltre che il capoluogo, Grosseto è la sintesi di tutto questo ed è l'espressione culturale sicuramente più genuina che oggi si possa valutare, pensate, voglio azzardare io, dico una cosa che a qualcuno farà storcere la bocca, forse della Toscana, sì proprio della Toscana, perché la nostra storia è una storia diversa rispetto ad altre realtà. Certo, se qualcuno considera il concetto di cultura come cultura classica, come cultura tradizionale, si può fare un esempio di confronto con Firenze o con Siena o con altre città della Toscana, no, non si può fare, ma se si considera la cultura come patrimonio di una popolazione, di un popolo, allora si può fare, si può fare, si può fare e si possono aggiungere a cultura anche altre parole, come valori, come speranza, come riscatto, la cultura anche come riscatto. Ho voluto fare questa premessa che sicuramente, non so, molti forse non condivideranno, perché stasera parlo di questo, parlo proprio di Grosseto come, diciamo sì, capitale della cultura, ecco, per il 2024. Oggi c'è stata un'audizione speciale e io qui ho chi ha partecipato, naturalmente. Un sindaco entusiasta, e mi lasci aggiungere, giustamente entusiasta, e poi il direttore artistico di questo progetto di Grosseto Capitale della Cultura per il 2024, Alessandro Corina. Ed allora iniziamo subito con la giornata di oggi. Sindaco, credo che lei debba dire soprattutto, perché lei è una persona entusiasta, come ha vissuto questa giornata. Intanto l'aspettava, perché questa audizione era attesa, no? Mi hanno detto che il sindaco era gasato, entusiasta, ha fatto un grandissimo intervento. Grazie, grazie dottor Capecchi, complimenti per l'introduzione. Sicuramente la parola cultura, tra l'altro, è sancito anche dal Ministero dei Beni Culturali. Dal 2004 con cultura si intende un qualche cosa di assolutamente imprescindibile, anche da quello che è il percorso di valorizzazione paesaggistico, ambientale e territoriale, di cui noi siamo maestri, di cui noi siamo, come giustamente ricordava lei, capitale della Toscana, ma tra le principali città d'Italia. Quindi la parola cultura è attinente alle realtà che viviamo. L'ho vissuta con grande emozione, con grande partecipazione, è un grande lavoro. Rendo veramente una nota d'onore al mio assessore alla cultura, che da vice sindaco ebbe questa idea, che sorprese anche me inizialmente che vengo da una città... Da Firenze. Da Firenze, no? Quindi la città d'arte per eccellenza. Però la sua caparbietà, la sua ostinazione, la sua valutazione ed interpretazione del concetto di cultura nella sua, appunto, valenza più estesa, nella sua estensione, è stata vincente. Siamo già comunque arrivati tra le prime dieci e questa è già di per sé una grandissima vittoria. Sicuramente uno dei meriti grandissimi di questo ottenimento, che già di per sé è di grande soddisfazione, è che Grosseto finalmente si è sbloccata, è uscita da una sorta di complesso di inferiorità, è tra le prime dieci città, capitale della cultura 2024, e comunque ha dimostrato e può dimostrare di alzare la testa e di poter guardare verso orizzonti molto lontani. Quindi ho vissuto questa questione con grande passione, con grande amore, con grande entusiasmo. È un lavoro molto importante perché si parla di aver messo insieme 3 milioni di euro, non soltanto come Comune di Grosseto, ma insieme ad altri 18 comuni oltre Grosseto. Si parla di un finanziamento diretto del Comune di Grosseto di 800 mila euro, si parla della creazione ottenuta di varie sinergie con fondazioni, con enti, con associazioni, con una partecipazione proprio di tutto il popolo, in grande sinergia e in grande collettività. Oggi era il momento di dare il massimo, oggi era il momento di mostrare il video, patemico, emozionale, molto importante, che è eccezionale, ha colpito moltissimo, era il momento, in pochissimo tempo, in maniera coordinata, in soltanto un'ora che ci è stata messa a disposizione di poter dare tutto, come una performance sportiva. Ecco perché anche Ambra Sabatini è stata veramente a pippa di cocco, a fagiolo, all'interno del contesto, ed è stata straordinaria, una ragazza meravigliosa, simbolo della resilienza grossetana, delle famose tre parole chiave che io oggi ho utilizzato e di cui poi magari farò accenno successivamente. Grande entusiasmo, grande amore, grande senso di collegialità, grande senso di condivisione, grande senso identitario, scoperta dell'appartenenza valoriale, identitaria della nostra grossetanità. Noi siamo, come diceva Bianciardi, aperti ai venti, ai forestieri, quindi non abbiamo mai avuto una vera e propria identità, oggi ce l'abbiamo, oggi abbiamo per la prima volta nella nostra storia ottenuto questa famosa identità. E questo è un grande vantaggio. Ambra, meravigliosa, è di oggi, proprio sono riprese, abbiamo seguito tutta la giornata come emittente con anche i nostri giornalisti e quindi era giusto che stasera con questa sintesi proponissimo all'intera città, all'intera Toscana ed anche a tutta la rete naturalmente quelle che sono le nostre ambizioni, le nostre speranze, il nostro modo di essere soddisfatti. Un direttore artistico che ruolo ha in un percorso come questo, Corina? Il direttore artistico ha il ruolo di osare e di far osare con coraggio e di valorizzare il talento di chi è protagonista. Oggi è stata una giornata superlativa, al di sopra non delle aspettative, perché tutti noi abbiamo dato il massimo. Io sono stato molto felice e fiero di loro, da partire dal sindaco, a tutti quanti, soprattutto perché sono riusciti e siamo riusciti a trasformare la parola progetto in processo. E ascoltarli dalla regia, da dietro, è stato molto emozionante perché alla fine vedevamo che tutti avevano in quella mattina la voglia di stupire se stessi, ma stupire la commissione e questo è avvenuto. Quindi siamo qui che aspettiamo, ci crediamo più di ieri, di stamattina. Grosseto ha avuto, grazie al sindaco, a Gresti, a Anna e a tutta la squadra, l'opportunità di spostare gli equilibri. Quindi siamo all'interno, siamo in un sogno, dentro e quindi ci auguriamo davvero che fra poco arriva il verdetto. Speriamo, speriamo. Io penso che dovremmo aspettare ancora una settimana, diciamo, grosso modo, per sapere qualcosa. Però il sindaco ha già detto una cosa che secondo me ci deve fa stare tranquilli. Comunque vadano le cose, noi abbiamo già vinto la nostra ecco. Questo è fondamentale che si dica perché non si sa, siamo tra i dieci e quindi dico ognuno giocherà le sue carte. Sapete che noi non abbiamo mai avuto grandi santi in paradiso e quindi dico non è mai facile pensare di poter scavalcare. Però chissà che la storia stia cambiando. Io spero che stia cambiando per tante altre cose, delle quali parleremo e che non voglio confondere con questa puntata perché è una puntata straordinaria. La voglio vivere anch'io con entusiasmo. L'entusiasmo di una persona che viene considerata ammalata di Maremma e quindi potrei guarire, chissà, con questa nomina, chissà, oppure ammalarmi anche di più. Bene, allora a questo punto, lo so, aspettate di vedere il video. Io vi contento subito perché mandiamo subito in onda questo video straordinario, emozionale, questo video che è una sintesi proprio del perché la Maremma merita questo riconoscimento e Grosseto come capitale pensa di poterlo ottenere perché ancora noi ci crediamo. Ci crediamo nonostante la concorrenza, naturalmente. E da allora prego la regia di mandare in onda a questo video che stamane è stato presentato nell'audizione con la Commissione Ministeriale. Storie, dicevamo noi, la nostra città era bella così e la dovevano lasciare stare e vivere. e crescere con il suo carattere genuino, una città di sterrati, di spazi aperti, al vento e ai forestieri, come Kansas City. Grazie a tutti. 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 E con Subissati non sbagli mai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.